Siamo arrivati a una famiglia, e un'unità, tanto chi è stato il giorno della professoressa. Sì, sono cari da Vaglioia, per un po' erano un po' di sempre, tutti i sacri di Gino, e accompagnavano il secondo giorno di lavoro, e quindi eravamo, e se vengono di Lunci Vinci, e mi dicevo oggi, eh, Lunci Vinci, e ti senti in giro anche a volte, e quindi, come ti accorto? Allora, come, sono tutti i ragazzi fantastici, scherzano, scherzano bene in giro, anche perchè sono arrivati più giovani, e quindi... a recenza. Il mondo che ti sta dato è così. Anche così, più diciamo, nel quarto avevo un carino di vicenza, e qualche matrimino, per tutti, quasi ultimano. Quali pezzi possono essere percretti, e vedermi la prossima? Per esempio, io ho scoperto del YouTube, perchè, quando io ho idea, io ti sono disponibili, perciò nella mia scuola, i pregi... ...